La Croce d'Argento La Croce d'Argento La Croce d'Argento Vostra grazia Vostra grazia C'è gente armata là fuori Io ho sbarrato le porte ma... È l'ora dei Vespri Durante i Vespri si sbarrano le porte? Non si è mai sentito? Ma vostra grazia Spalancate Il servizio divino deve svolgersi oggi come sempre Il servizio divino deve svolgersi oggi come sempre È arrivata La suprema follia È la sua ora La Croce d'Argento Grazie a tutti. Non si entra con le armi nella casa di Dio. Che cosa volete? La tua vita. Noi continuiamo la funzione. Sassone. Cane. Traditore. Noi. 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 Oh, signore, com'è pesante il tuo onore da portare. Noi. Noi. No, 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 no. Povero Enrico.